È stata una grande emozione vincere l'edizione italiana del JSVC, adesso ci dobbiamo preparare per l'edizione internazionale che avverrà in aprile. Dobbiamo decidere fra di noi nel team chi sarà a presentare, probabilmente chi ha il migliore inglese sarà colui che sfiderà le altre start-up. Non ho ancora avvertito i miei compagni d'avventura, quindi spero di farlo a breve appena ho finito di parlare con tutti e non sanno ancora che siamo in finale. Trasparenza, efficienza e potere. La nostra piattaforma si basa sul fatto di offrire trasparenza nel terzo settore, questo per noi è fondamentale, è proprio la nostra value proposition. Efficienza è importante per noi che tutti i processi siano il più efficaci e efficienti possibili e potere, noi vogliamo dare il potere nelle mani dei donatori affinché possano sapere come vengono ad essere spesi i loro soldi durante le donazioni.